riforma della medicina territoriale e presidenza sarà questo l'argomento di cui ci occuperemo oggi in questa puntata sociale di sanità informazione insieme al presidente dell'ente nazionale di presidenza dei medici e degli odontoiatri enfam il dottor alberto oliveti che oggi qui con noi che ringrazio intanto per aver accettato il nostro invito prego buongiorno buongiorno allora presidente è stato pubblicato questo documento redatto dalle dalle regioni che abbozza quella che secondo appunto le regioni dovrà essere la struttura della medicina territoriale del futuro e in particolare il ruolo che all'interno di questa organizzazione dovranno svolgere medici di medicina generale e pediatri di libera scelta una vera e propria rivoluzione rispetto all'attuale assetto che va incontro a quella che è appunto la nuova organizzazione anche a livello strutturale previsto dal pnr e dai nuovi patti per la per la salute il punto di partenza è abbastanza anitto abbastanza preciso quello da cui appunto partono le regioni la medicina generale così com'è organizzata oggi non funziona lo ha dimostrato nel corso della pandemia e non è in grado di raggiungere quegli obiettivi che il pnr e i fondi che in esso ovviamente sono previsti prevedono partiamo da questo presupposto presidente lei è d'accordo appunto da questo principio no non sono d'accordo su questa lettura sono d'accordo sul fatto che col pnr sia data priorità alla declinazione della prossimità dopo aver risolto la questione dei vaccini quindi prossimità con investimenti territoriali con investimenti in digitalizzazione con promozione di tutto quello che può essere l'innovazione che abbiamo a disposizione su questo sono perfettamente d'accordo così come alla fine possa anche essere d'accordo sull'esigenza di stabilire dei presidi fissi nel nel territorio quindi l'ospedale di comunità per le cure intermedie i centri operativi territoriali che si possono integrare nelle varie attività anche in relazione all'emergenza urgenza e le case di comunità si si ha l'obiettivo di raggiungere 1500 case di comunità sappiamo che il territorio italiano è fatto di più di 300 mila chilometri quadrati significa una casa delle comunità quando va bene ogni 100 120 chilometri quadrati e quindi questo significa una declinazione un po originale della prossimità che allontana il punto di riferimento dal cittadino io credo che la rete degli studi professionali che ovviamente necessita un importante rinnovamento ma anche un importante investimento sia in termini finanziari in tempi organizzativi in temi in termini di ridefinizione della tipologia e della qualità del lavoro però nello stesso tempo non possa essere definita come la soluzione quella di accentrare qualcuno ha parlato nel commercio si è passati dalla bottega i centri commerciali ecco appunto nel commercio passeremo a dei centri commerciali credo che il diritto alla salute sia qualcosa di diverso credo che l'invecchiamento relativo della popolazione nazionale debba far pensare bene a questo passaggio che preveda l'eliminazione degli studi professionali che hanno una disposizione capillare che vivono di un rapporto fiduciario con il cittadino quindi miglioramenti sì cambiamenti sì ma non in questa direzione questa appunto la sua opinione scendiamo un po nel dettaglio per andare a inquadrare quelle che sono le quattro ipotesi a livello proprio di rapporto quasi contrattuale direi dei medici di medicina generale che vengono presentate dalle regioni la prima è quella che comporterebbe veramente un cambiamento epocale per questo per questo settore il passaggio dei medici di medicina generale alla dipendenza lei su questo residente qualche mese fa in tempi quasi non sospetti crisse un un editoriale ormai famoso il suo no granitico al passaggio alla dipendenza in cui appunto già espresse la la sua posizione è successo qualcosa che l'ha fatto cambiare idea in queste settimane oppure come dire ha ancora più puntuale questa questa sua posizione allora io ne sono ancora più convinto però voglio spiegare scendiamo il mio ruolo io sono il presidente della fondazione empam la fondazione empam vive dei contributi da lavoro autonomo dei suoi iscritti e paga le prestazioni previdenziali sempre di più prestazioni non solo legate alla fase post lavorativa ma anche legate al welfare lavorativo per cercare di sviluppare un miglioramento dei di questi professionisti però reddito da lavoro autonomo il reddito lavoro dipendente è tutelato dall'inps e anche una certa parte di lavoro non dipendente tutelata dalla gestione separata dell'inps se pensiamo gli specializzanti questi versano alla gestione separata dell'inps bene se domani passassimo rapidamente alla dipendenza tutti i flussi contributivi riguardanti i lavoratori della medicina generale quindi medicina assistenza primaria continuità assistenziale pediatri libera scelta e specialisti ambulatoriali passerebbero al a un reddito lavoro dipendente quindi sarebbero di afferenza dell'inps questo significerebbe affossare la fondazione empam che ricordo è una fondazione è la più grossa cassa di previdenza privata italiana e nella classifica di tower watson dei fondi pensione la classifica annuale dei 400 fondi pensione più importanti è l'unica cassa italiana ed è al quarantesimo posto si affosserebbe con un solo tratto di penna riguardante il sottostante lavorativo anni di gestione che hanno portato a raddoppiare il patrimonio nel giro di 7 8 anni e che stanno dando prestazioni io credo soddisfacenti sicuramente il massimo sostenibile dal sistema ma che le stanno dando anche agli studenti del quinto sesto anno di medicina quindi cercando una una reazione un'azione circolare tra tutti coloro che parteciperanno al sistema cercando quindi di basarsi più che su un patto obbligatorio generazionale su un patto professionale e qui ritorno alla professione io la mia professione per 40 anni è stata quella del medico di assistenza primata primaria ma essendo stato anche un pediatra fin dall'inizio anche svolto tanta attività di tipo pediatrico quindi credo di conoscere bene questo tipo di assistenza sul territorio ma vi posso dire che se si pensa di risolvere certi problemi con lo stipendio fisso e con il passaggio delle dipendenze io penso che non si abbia capito molto di come funzionano le cose sul territorio chiaramente chi è vincolato a un certo orario vincolato a certi tipi di rapporti risponde a chi lì allo strumento e all'operatore che gli garantisce questo rapporto quindi vi è una certa gerarchia vi è una certa catena di comando ma è una medicina amministrata verso la quale poi il professionista risponderà semplicemente rispettando i fatti si perderebbe assolutamente il rapporto fiduciario credo che sia una favola quella di mantenere un rapporto fiduciario a dipendenza è una contraddizione in termini perché di fatto il medico risponderebbe all'amministrazione non risponderebbe come adesso fa all'interesse del cittadino verso il quale dal quale è scelto dal quale riceve la remunerazione per l'insieme dell'attività che offre a fronte a una cornice di prestazioni concordata con la convenzione con il sistema pubblico verso il quale ha questo rapporto di rispetto dei termini della convenzione torniamo un attimo al discorso però dell'impatto del passaggio della della alla dipendenza sulle cassa dell'emfam è una questione che le regioni hanno considerato viene citato più volte questo all'interno del documento e si ipotizza infatti la possibilità di passare da un punto di vista contrattuale i medici medicina generale alla dipendenza ma mantenendo la loro posizione contributiva all'emfam è un qualcosa che è possibile fare che la convince allora fermo restando la mia perplessità evidente professionale sull'efficacia di una dipendenza al rapporto fiduciario e questo fermo restando la mia perplessità sulla declinazione capillare con 1.500 o 2.000 o 3.000 case delle comunità una ogni 100 km quadrati al di là di questo dico che tutto è possibile si fanno le leggi tutto è possibile l'empam gestisce il suo ruolo a seguito di una delega costituzionale l'articolo 38 della costituzione dice che ci sono organi istituti predisposti integrati dello stato che devono provvedere all'erogazione della previdenza noi siamo stati predisposti dallo stato a fare questa questo compito con una legge cancellare una derivata costituzionale credo che sia un passaggio abbastanza complicato ma al di là di quello lasciare alla gestione privata della fondazione l'empam a finalità sempre pubblica ma a strumenti privati la gestione l'empam di un rapporto lavoro dipendente è già successo in via transitoria nel passato quando anni fa alcune regioni e solo alcune regioni decidero per scelte regionali nella declinazione del loro federalismo e della loro autonomia ai sensi del titolo quinto della costituzione di passare alla dipendenza alcune aree professionali convenzionate tipo l'emergenza tipo la medicina e i servizi fu permesso a quei professionisti di optare per mantenere la posizione previdenziale nella cassa di previdenza nell'embar quindi si realizzò l'eccezione che confermava la regola di avere a questo punto dei lavoratori dipendenti in alcune regioni che continuavano a pagare previdenza nell'ente deputato alla gestione della previdenza del lavoro autonomo però è stata una cosa episodica basata su una volontarietà di chi ha già aveva quel tipo di posizione adesso collegare questa ipotesi con la possibilità di andare a regime a uno stato di dipendenza che a regime quindi saltando l'opzione ma entrando nell'obbligo lo trasferisca l'emba mi pare abbastanza poco reale poco convincente quindi qualora si trovasse però il tema legislativo per superare questo ostacolo di cui parlava inizialmente lei accetterebbe questo passaggio appunto mantenimento dei contributi in empam al passaggio della dipendente allora guardi una da presidente non solo dell'emba ma anche dell'ade per l'associazione di tutte le casse private io lamento alcune cose una tra tutte la volatilità legislativa oggi l'emba ha 50 anni di sostenibilità nel tempo ogni anno incassa 3 miliardi e 2 di contributi circa 3 miliardi e 3 miliardi e 3 ne paga 2 miliardi e 2 miliardi e 3 di prestazioni con un saldo attivo di circa un miliardo previdenziale in più fa alti saldi attivi importanti nell'investimento di questi contributi che deve tenere la riserva se mi levano metà mi levano un miliardo e sei all'anno circa la sostenibilità a 50 anni salta ed è una sostenibilità che noi dobbiamo per legge a seguito del rigorosa legge fornero che ci approvò prima cassa fra le 20 casse privatizzate la stabilità del tempo ci possiamo fidare di una scelta anomala eccezionale che diventi a regime io ho qualche perplessità ho qualche perplessità forte però del resto sono un uomo che di istituzione quindi devo obbedire le leggi se mi trovassi una legge la dovrei naturalmente applicare non vedo più che l'applicherei così come le leggi riguardanti appunto la sostenibilità del sistema e che non mi permettono di poter usare gli attivi importanti che abbiamo per dare migliori prestazioni ai nostri iscritti si lamentano chiediamo prestazioni basse io dico che diamo le prestazioni massime e sostenibili dal sistema e invito a valutarci sui numeri sui fatti ma ottenuti nel rispetto delle regole vigenti se diventasse regola l'accetterei ho qualche perplessità che questa possa diventare una regola efficiente tra l'altro proprio qualche giorno fa in una nota lei ha dichiarato tutto questo creerebbe un buco di 84 miliardi e beh un miliardo e 6 moltiplicato per 50 con gli interessi e tutto questa è la cifra che i miei attuari noi abbiamo una capacità attuale molto attenta che ci riconobbe l'allora ministro del lavoro fornero esercitiamo in 50 anni la perdita di questo introito significerebbe 84 miliardi e quindi significerebbe la morte del primo fondo pensione italiano riconosciuto a livello mondiale senta questa possibilità viene evidenziata dalle regioni chiamandola neutralità d'impatto la domanda è qualora quindi questo appunto per tutte le regioni che ci ha spiegato non potesse essere raggiunto come obiettivo e quindi necessariamente con il passaggio alla dipendenza i medici di medicina generale dovrebbero passare appunto all'insa questo impatto non sarebbe neutrale e avrebbe quindi delle conseguenze non solo sulla cassa ma anche sulla posizione contributive dei singoli medici che attualmente versano all'emfam questa è la mia domanda immaginando uno scenario di questo genere e quindi solo per artificio io penso che le posizioni dovrebbero essere mantenute e lo stato si dovrebbe fare il garante di un diritto costituzionale che è il diritto che per i lavoratori siano preveduti determinati tipi determinati sistemi di prestazione e quindi credo che se ne farebbe carico lo stato dovrebbe farsi carico da quel momento in poi non so in che misura certo sappiamo che insomma l'Inps è il più grosso ente di previdenza europeo io sono molto orgoglioso che l'Italia come paese civile abbia un'Inps un istituto nazionale di previdenza sociale quindi questo sia chiaro però dato che fu affidato dal legislatore alle casse nel caso specifico della fondazione Empa il compito di tutelare per alcune categorie la previdenza obbligatoria di diritto costituzionale e questo è stato fatto io cito una sentenza ultima della Corte Costituzionale quindi la Corte delle Leggi il giudice delle leggi italiane che nel definire le attività delle casse ha definito che hanno esercitato la loro funzione con efficacia per un ragguardevole lasso di tempo e comparate all'Inps si legge che lo hanno fatto meglio è chiaro che sancire per legge l'impossibilità per questa cassa di andare avanti per uno squilibrio costruito e non legato a mala gestione o a sottostanti lavorativi in crisi ma affossarlo per semplice dirottamento dei flussi prestazionali da una parte all'altra significerebbe rinnegare anche a quella scelta che il legislatore fece anni fa e che fu una scelta considerata una scelta di un paese che voleva ridurre il peso della cosa pubblica per andare verso delle gestioni responsabilizzate private e ovviamente vigilate e controllate so che nel PNRR come sappiamo ci sono delle riforme orizzontali una è quella della giustizia una è quella della pubblica amministrazione poi mi spieghino come si ripubblicizzando certe professioni riportandole al pubblico si possa pensare di dar seguito a quello che è considerato un problema da riformare chiaro senza analizziamo velocemente le altre ipotesi ci siamo concentrati sulla dipendenza le altre abbiamo un rafforzamento dell'attuale ACN per cui un accreditamento dei medici di medicina generale un doppio canale per cui un mantenimento dello status quo per chi è già medico di medicina generale con un passaggio progressivo alla dipendenza per i futuri medici e un terzo sistema che invece prevede un sistema simile a quello che è per il sistema privato qual è appunto l'impatto di queste tre ovviamente ognuna con le sue peculiarità queste tre ipotesi avrebbero sulla previdenza dei medici allora sulla dipendenza tu cu l'abbiamo detto sulla dipendenza doppio binario cioè si lascia scivolare nel rapporto convenzionale con i loro studi i medici attuali ma sappiamo che da qui al 2027 andranno in pensione tanti medici l'EMPAM ha riportato anche i numeri e invece assumendo i nuovi medici di rimpiazzo con il rapporto dipendente beh questa sarebbe la soluzione sarebbe la classica top a peggio del buco elegantemente nel senso che non si avrebbe previsione di poter contare su contributi e si continuerebbe a incassare contributi che sono debito previdenziale quindi dovranno dare seguito a prestazioni sapendo di non poter continuare nel tempo bene questo passaggio sarebbe ancora più gravoso rispetto al passaggio immediato da dipendenza la terza posizione è quella sostanzialmente dell'accreditamento l'accreditamento non è il convenzionamento sia chiaro io credo che per salvare l'EMPAM si debba rimanere nel versante del lavoro autonomo poi lo si può declinare in vari modi per esempio l'attuale convenzione della medicina generale l'attuale ha un mix tra quote capitarie e quote orarie al punto tale che si pensava anche di metterli insieme in un'unica figura professionale ci sono oggi medici convenzionati all'assistenza primaria che fino a che non raggiungono una certa quota di scelte possono continuare a fare anche attività oraria nella continuità assistenziale io credo che questa, passatemi il termine, Bretton Woods che come ricordo fu la convertibilità oro-dollaro la si abbia già tra quota capitaria e quota orarie già nelle attuali convenzioni quindi devono essere riviste, sicuramente aggiornate sicuramente al loro interno vanno portati elementi di qualificazione collegati al lavoro in team da un lato e alla capacità dell'utilizzo della massima integrazione tecnologica e digitale possibile fino ad arrivare ai presidi dell'intelligenza artificiale laddove siano disponibili e efficienti come amplificazione di questa funzione però nello stesso tempo non si possa, come posso dire, distorcere la funzione del convenzionamento l'accreditamento è altro, l'accreditamento significa che privati che hanno determinate caratteristiche preesistenti possano accedere a un rapporto di lavoro privato ma autorizzato da un lato e accreditato dall'altro il passaggio d'accreditamento al convenzionamento o viceversa non è sinonimo, non è la stessa cosa quindi il passaggio d'accreditamento mi fa pensare che possano ma questa è una mia speculazione perché non è scritto bene possono essere previsti degli accreditamenti a gruppi di professionisti che si prendono in carico determinati flussi di attività tutti da definire, tutti da negoziare in ogni caso è un po' una modifica, non dico stavolgimento ma una modifica dell'attuale accordo convenzionale già esistente e in ultimo l'ipotesi di dipendenza privata verso società creditate per flussi di attività in ogni caso se si è dipendenti si lascia il versante del lavoro autonomo e si entra nel versante della modipendenza dal punto di vista fiscale e quindi dal punto di vista presidenziale Senta, due considerazioni la prima, secondo lei dal punto di vista che ovviamente lei ha nei confronti dei medici di medicina generale qual è l'animo della maggior parte di questi? cosa ne pensano? qual è la loro opinione? abbiamo visto che i sindacati la maggior parte dei sindacati è assolutamente contraria a tutto questo progetto il singolo medico di famiglia qualcuno di questi potrà essere allettato anche dalle tutele che qua la dipendenza offre ma la maggioranza che ne pensi? eh, bella domanda allora, la prima affermazione dico questo con il titolo quinto e il federalismo sanitario uno dei problemi del servizio sanitario nazionale è la diseguaglianza applicativa, erogativa dei LEA e via dicendo la medicina generale esprime questa diseguaglianza ci sono esempi di professionisti posso dire straordinari esempi non straordinari di professionisti sostanzialmente come ogni settore io credo che si debba decidere se si vuole investire nel migliorare nell'aggiornare nel tirare fuori il meglio da una modalità oppure la si voglia abbandonare l'impressione che la si voglia abbandonare quando secondo me non ce ne sono gli elementi anche di riscontro della popolazione per farlo allora vengono altre domande che in questo caso non voglio fare la categoria la categoria intanto è molto composita perché è fatta di colleghi anziani che stanno andando in pensione e che hanno esercitato in un certo modo e di colleghi che sono entrati giovani che hanno fatto corsi di formazione devo dire molto ben formati molto ben preparati non sono stati ben preparati nel corso di laurea perché il corso di laurea trascura quella che si chiama l'insegnamento della medicina a ciclo fiduciario a differenza della medicina per le diagnosi quindi che porterà poi alla specializzazione per fare sostanzialmente un esercizio ospedaliero accademico della professione è il motivo per il quale poi certi giovani scelgono anche di andarsene dall'Italia ne sosteniamo i costi dal punto di vista generale e poi altri paesi godono la loro in dubbio qualità formativa chi l'ha esercitata fino ad oggi? l'ha esercitata con scarse risorse poco supportato utilizzando strumenti informatici fatti dalla categoria e non fatti dal sistema con una programmazione deficitare lo studio del medico di famiglia è diventato lo scaricatorio di qualsiasi incombenza di tipo burocratico amministrativo ritenuto indispensabile e quindi gli studi sono anche ingolfati di questi eventi credo che i giovani questo non l'apprezzino tanto perché se devono fare il video terminalista preferiscono fare l'ora con la garanzia della tredicesima delle ferie, della malattia, del TFR e almeno sapere quando finisce il loro orario ma se questo avviene poi significa che il rapporto fiduciario non può avvenire a qualsiasi ora del giorno o della notte con la disponibilità telefonica per esempio che già abbiamo quindi è evidente che dei giovani ben preparati dai corsi di formazione probabilmente io credo che si debba passare il guado della specializzazione in medicina della persona e di famiglia e credo anche probabilmente la stessa accademia di rivedere il suo profilo di competenze e conoscenze nel settore specifico dal punto di vista opposto invece i pazienti probabilmente questo è un dibattito ancora di nicchia che ancora si sta sviluppando sui giornali ovviamente parliamo ancora di ipotesi di concreto al momento almeno non c'è un gran che però c'è la sensazione che la cittadinanza non sia consapevole appieno di quello che sta succedendo che ovviamente riguarderà tutti noi si effettivamente è così e vengono portati delle soluzioni precostituite dei dati di fatti assodati sappiamo purtroppo come il dibattito pubblico oggi si è inficiato da tanti elementi l'abbiamo visto anche per quello che riguarda il covid per quello che riguarda le vaccinazioni io credo che la vera sostanza cioè le persone anziane le persone che magari non hanno dei grandi livelli di conoscenza che magari per storia personale non abbiano grande cultura siano le più potenzialmente svantaggiate oggi sappiamo che non avere competenze e conoscenze diventa un fattore prognostico negativo per la salute delle persone non è soltanto il censo ma anche la località abitativa la dispersione abitativa e anche la dispersione culturale possono essere un problema per la salute la medicina a disposizione capillare serve anche per questo facciamola lavorare bene facciamo un programma di formazione di revisione di reforcing di queste competenze professionali ma non buttiamo via la capillarità e la fiduciarietà del rapporto che sono fondamentali poi se qualcuno dice questa fiduciarietà non è fruibile perché io non posso scegliermi la persona fiduciaria facciamo la possibilità che possa essere scelta ma non si può buttare via scusatemi l'eleganza con l'acqua sporca anche il bambino anche perché lo dice un pediatra i bambini che non producono acqua sporca non esistono se ne li fanno passare come tali sono bambolotti grazie mille presidente Olivetti sarà sicuramente questo uno degli argomenti principali di cui ci occuperemo nelle prossime settimane vi invito quindi a seguire gli approfondimenti su Sanità e Informazione e la prossima puntata di Sanità e Informazione in Contra grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti